Dobbiamo cominciare, scusate il ritardo, ma ci sono colpi collettivi questa sera e abbiamo avuto problemi di lavoro di tutti e cominciare da mano, grazie che è qui. Allora, velocemente, io adesso non vedo Alessandro che magari si salta fuori se vuoi, vabbè, tranquillo, tranquillo. Allora, innanzitutto, prima dell'argomento vero della serata, eccetera, è giusto fare un minimo di informazione e un repolo. Allora, in vista delle prossime amministrative del 25 maggio, sempre che siamo sorpresi, insomma, si spera che siano quelle lì, eccetera, ci siamo, come abbiamo, ci siamo organizzati parecchio, a livello di segretaria abbiamo fatto due riunioni e abbiamo stabilito che avremmo, come di consuetudine, consultato un po' tutti i cittadini, i portatori di interesse, le organizzazioni presenti a Sassonarbono, ed è un bel numero. Parliamo di volontariato, scuola, sindacati, associazioni di categoria, sport, più ne ha chi ne metta. Alla fine abbiamo contattato 82-83 persone, abbiamo fatto tre riunioni, che poi sono diventate quattro perché non tutti riuscivano a starci, e più o meno a tutti abbiamo fatto domande del più... cioè, abbiamo cercato di ascoltare molto e di parlare poco, insomma, diciamo che abbiamo una rete e una bocca per ascoltare il dopo e parlare alla metà. A tutti abbiamo chiesto intanto una valutazione sul lavoro svolto dalla giunta, dal sindaco e dall'amministrazione passata. Aggiungo anche che i comuni accordi avevamo deciso di questi incontri che avevamo fatti senza la presenza del sindaco e senza la presenza di nessuno degli assessori, perché era giusto, insomma, anche più opportuno, perché la gente si sente intimidita, però, insomma, si parla più liberamente in questo modo qua. Abbiamo anche fatto apposta un vero e proprio questionario anonimo e tutti quanti i cosiddetti, insomma, portatori di interesse, tutti questi 82 persone lo hanno compilato, dove appunto c'era anche da dare una valutazione sul lavoro svolto. Adesso Alessandro sta completando i risultati, comunque il giudizio è più che lusigniero, diciamo, intorno a 7. E, insisto, il questionario era assolutamente anonimo con tanto di urna, perché abbiamo voluto fare le cose per bene. Ci tenevamo anche che fosse il criterio più omogeneo possibile, perché le categorie sono tante e, insomma, hai bisogno di avere qualche, delle domande standard o uguali per tutti, altrimenti non ci si capisce. Questo è stato l'inizio. E, appunto, questi incontri sono stati molto importanti. Dopodiché, sempre nel percorso che adesso vi vado velocissimamente a spiegare, eccetera, abbiamo deciso di fare anche questa cosa qua. e segnatevelo sulle vostre aziende perché sarà un po' l'appuntamento clou, diciamo, da questo punto di vista. Sabato 22 marzo, al pomeriggio, e domenica 23 marzo, al mattino, a Colle Ameno, faremo una specie di, chiamiamola la fabbrica del programma, una piccola leopolda, tanto per capirci, dove chiameremo parecchi cittadini manderemo circa un 2.000 inviti che sono, o 2.060 inviti, che sono tutti quelli che hanno, tutti gli elettori delle ultime primarie, abbiamo loro in griffa, manderemo anche molte mail, non abbiamo 2.000 mail, abbiamo circa 670 circa, e inviteremo tutti quanti a partecipare a questa emozione. L'idea banalissima, che poi in realtà sembra banale, ma è bella complicata, è battezzare, scegliere dei tavoli su degli argomenti programmatici, invitare i cittadini a discutere insieme quelle che possono essere le proposte, le idee da mettere nel programma, e il risultato di questi 16-18 tavoli che abbiamo definito andranno a costruire, ne più ne meno, un programma stesso della ricandidatura e la ricandidatura di Stefano Gostelli. Ci tenevamo a fare questa cosa perché, come abbiamo poi detto alla nostra riunione l'altra volta, all'ultima assemblea, vogliamo che la candidatura sia la più partecipata possibile, sia la più civica possibile, che venga dal basso e che ascoltare i più cittadini possibile. Faccio notare che, da quello che mi hanno detto anche a Bologna e in provincia, su 39 comuni che vanno al voto, una roba così capillare, un evento di questo genere stile Leopold, forse siamo gli unici che finora lanciano, magari lo farà qualcun altro anche, però finora siamo gli unici a fare una roba così, perché un conto, ripeto, a costruire il programma consultando un po' di gente qua dentro, un conto è fare un evento così partecipato. Per cui sarà importante anche dal punto di vista organizzativo gestirlo bene, però insomma siamo, diciamo, moderatamente ottimisti che l'iniziativa sia oltre. Per cui, se chi ti vuole, alcuni verranno, riceverete tutta una comunicazione che intanto ve lo anticipo, può partecipare 22, 23 tenetevi libero. Questo è quanto. Dopodiché, io, come record sulla attività, diciamo, elaborazione del programma, non c'è molto altro da dire, non la voglio fare lunga. Passerei, se volete, a quello che è il vero tema di stasera, che appunto in tanti ci hanno chiesto, bisogna un attimino parlarne, di quello che è successo, di quello che sta succedendo in queste ore, se non so se hanno approvato poi, no, non ancora, ancora un po', vabbè, insomma, speriamo che andare a domani si concluda almeno con lo step della legge elettorale, questo è un po' dell'italiano. Io, cosa volete che vi dica, cioè, personalmente, sono rimasto, io, io per primo, un po' abbastanza, come si dice, sconcertato sull'accelerazione che ha preso un mese fa la questione del governo. va detto che, parliamoci chiaro, cioè, il governo uscente, quello di Enrico Letta, era abbastanza impantanato, cioè, non è che aveva, insomma, c'era una notevole difficoltà a procedere con quelle iniziative e, insomma, da qui a 25 maggio ci sarà la legge sulle elezioni del Parlamento europeo ed è sempre stato un po', sarà come al solito un referendum un po' sul governo, se non portiamo dei risultati e in fretta qualcosa di importante, eccetera, secondo me, rischiamo di, c'era bisogno di un cambio di passo, diciamo così, e quindi si è proceduto in questo modo. Io sono uno dei più convinti che, secondo me, un capo del governo è meglio che diventi Presidente del Consiglio tramite elezioni, però, ribadisco, non è la situazione, come si dice, siamo un po' incattati, non era facile e neanche il precedente era così, per cui, o si cambia la legge del Parlamento. Questo è quanto. Io spero che presto arrivi un po' di iniziative importanti da parte del governo. Secondo me bisogna mettere dei contenuti, fare cose un po' di sinistra, cioè nel senso che bisogna fare delle riforme che si chiedono ma non la ridistribuzione del fisco, cioè tassare di più le rendite e detassare il lavoro è fondamentale, mettere le vitelle ai lavoratori, ai precari, che ormai sono la maggioranza di vitelle non ne hanno, fare una riforma delle pensioni dove, ad esempio, togliere qualcosa che ha le pensioni molto alte ottenute con il sistema retributivo e non contributivo e con quei soldi risparmiati ad esempio risolvere il problema degli esodati o le pensioni minime che sono tante. Di cose da fare ce ne sono parecchie io mi auguro che questo governo ha fatto ancora un'incenerazione che poi è tipica di Matteo Renzi per cercare di portare a casa dei risultati. Rischiamo la pazienza è veramente un po' al limite siamo seduti sul bordo di un vulcano e se non portiamo a casa dei risultati è un guai. Volevo dire due cose non farla troppo lunga poi magari qualcosa lo aggiungo alla fine eccetera. Per quello che riguarda la legge elettorale è molto importante secondo me mettersi d'accordo su che tipo di dove vogliamo andare che tipo di legge elettorale bisogna fare io è la mia opinione ma insomma credo sono convinto di avere di avere ragione la scelta è o una legge proporzionale molto proporzionale o una legge molto maggioritaria sono due cose diverse sono due modelli diversi al congresso che Matteo Renzi ha vinto in maniera anche superiore alle aspettative lui ha sempre detto con una chiarezza assolutamente cristallina che questo paese ha bisogno di una legge maggioritaria non proporzionale per portare avanti su un serio bipolarismo serve una legge elettorale dove la sera delle elezioni si sa chi ha vinto e chi ha perso e che non si debba tutte le volte ogni settimana a super stare ai ricatti dei partiti più piccoli tipico delle leggi proporzionali dove se tu hai una maggioranza magari ci sono 5 senatori di un partito che ha preso l'1,8% che ti possono ottenere quello che è successo per degli anni con Prodi e con altri questo è un esempio più banale se ci fosse questa legge se verrà approvata penso spero di sì ormai siamo addirittura d'arrivo almeno per la Camera se c'è il ballottaggio di quella che è la cosa più importante tanto per capire quanto è importante con queste ultime elezioni del 25 febbraio ci sarebbe andati tra Luigi Bersani che era il nostro candidato premier e Silvio Berlusconi visto i risultati ci sarebbe stato questo famoso ballottaggio una settimana dopo due settimane dopo non lo so però almeno dopo quel secondo turno ci sarebbe chiaramente una maggioranza solida per l'uno per l'altro e si poteva fare un governo senza lavorare di fare in maniera ingattata come lo sia questo per dire l'importanza di quello che si cerca di ottenere non voglio fare polemiche però insomma una cosa mi sento di via eccetera la legge elettorale rappresenta può sembrare una cosa banale ma è molto importante perché ti va diciamo a delineare il modello di partito e di società che hai in testa se tu vuoi un partito il PD doveva essere un partito a vocazioni maggioritarie poi così è nato per quello con Veltroni poi Versani Autos non ci hanno molto creduto e secondo me avevano perso questa vocazione cerco di spiegarmi meglio un partito a vocazioni maggioritarie vuol dire che è un partito che punta a prendere il 35 il 40% si spera di prendere un risultato molto alto e con quel voto con quei numeri punti a governarle da solo magari con qualche alleato ma comunque da solo indicativamente se invece vuoi una bella legge elettorale proporzionale tu hai in testa un partito più piccolo un partito che si rivolge più o meno sempre ai soliti elettori che abbiamo sempre avuto che per ogni anno calano un partito che non parla tutto il paese ma parla certe categorie che decide prima a priori che sono i tuoi interlocutori è un partito un po' più del novecento è un partito molto identitario è un partito abbastanza vecchio almeno dal mio punto di vista una legge maggioritaria chi hai in mente questo partito qui logicamente io lo capisco non sa cosa farsene perché se tanto tu sai già a priori che più del 25 il 28% non esiste che lo prendi che cosa te ne fai con una legge elettorale maggioritaria il 37% non lo vedi questo non è una cosa da poco io spero che si si ricomponga eccetera ma vedo in maniera abbastanza forte strisciante se la minoranza del partito è uscita ha perso il congresso però non dimentichiamo c'è maggioranza del gruppo parlamentare il Parlamento e del PD se sono ancora convinti che la legge elettorale deve essere il più possibile proporzionale quindi tuteliamo i partiti piccoli facciamo alleanze non credi molto al progetto del PD io la vedo così questa cosa è un problema molto delicato e non so fino a che punto l'abbiamo risolta temo che proprio non hanno se io quando sento leggevo ieri ieri l'altro che come si chiama Angela Finocchiaro Rosi Pilde hanno già detto appena la legge viene al Senato finita la Camera vogliamo rivedere le soglie le quote ripeto si ritorna dal punto di partenza tu non vuoi una legge che sia veramente maggioritaria alcuni dicono ah ma dobbiamo stare attenti perché guardate che se mettiamo delle soglie troppo alte poi tanta gente non è più rappresentata e si arrabbia e non va a votare e aumenta l'astensionismo io sarò per me è vero il contrario nel senso che la gente è stufa non c'è abbastanza partiti non trovano abbastanza simboli sulla scheda ecco non c'è quello che volevo io non vengo a votare insomma la gente non viene a votare perché non non vede non vede soluzioni sui problemi e non è che aggiungendo un'altra partita concludo due cose per dire io sono ignorante non mi intendo di queste cose ma se guardiamo tutti gli altri paesi d'Europa Francia Spagna Gran Bretagna e Germania sono i più nostri partner i nostri paesi più vicini hanno delle leggi elettorali diversissime tra loro molto diverse ognuno va però hanno in comune tutti un paio di cose che sono più o meno quelle che dicevo prima uno la serata delle elezioni si sa chiaramente chi è perso praticamente sempre due se ci fate caso tutti questi parlamenti hanno sempre rigorosamente tre quattro cinque gruppi parlamentari cioè alla fine il loro dibattito tutta la la discussione politica nei loro parlamenti sovrani si esaurisce tra quattro cinque forze politiche forse anche meno in Italia no in Italia praticamente ci sono quando fai la conferenza dei gatti gruppo si siedono in quindici sedici ed è una roba polverizzata atomizzata secondo me questo è un grosso problema perché ripeto l'obiettivo della legge elettorale di proporre Renzi è proprio evitare questa cosa qui perché altrimenti non riusciamo fuori coi piedi e insisto ci si può arrivare in tanti modi in Francia c'è il doppio turno in Germania c'è lo sbaramento al 5% in Spagna c'è dei collegi piccoli che di fatto hanno sbaramento tra il 15 e il 18% in Inghilterra c'è il turno unico e lì si andrà tra il 25 e il 32% qui sembra che la soglia del 4,5% per i partiti equalizzati e l'8% dei partiti non equalizzati sia una roba una sticella vergognosa è molto ma molto meno di quello che c'è in tutti gli altri paesi che vi ho detto e nessuno spreca a me fa impazzire che questi partiti che prendono l'1,8,2,5,3% si lamentano cioè non si chiedono perché io non riesco a raccogliere più voti perché io conto così poco la loro richiesta è abbassiamo la sticella e vogliamo entrare secondo me si fanno la domanda sbagliata perché non è possibile e insisto negli altri paesi è così nessuno in Italia sopravvivono secondo me con questa legge farecchi partiti per cui non vedo niente di non vedo una cosa scandalosa però anche all'interno del PD diciamocelo francamente parecchi parlamentari proprio su questo versante per loro assolutamente dobbiamo rivedere le soli io spero che invece la legge vada avanti così com'è mi rendo gomio che è un compromesso ma su questa cosa qui sul modello di partito cioè sul modello di legge elettorale maggioritaria per un partito avvocazione maggioritaria per me non si deve assolutamente tornare indietro questo è quanto io non voglio portarvi a spazio ultimato poi magari qualcosa l'aggiungo magari non subito lasciate parlare prima qualcun altro Marco dopo lui è responsabile della tanto della formazione dei giovani un progetto si chiama la VO molto interessante che è molto di illustriano e poi lui è responsabile appunto delle politiche europee del partito democratico visto che parleremo anche dell'adesione prima eravamo membri del gruppo parlamentare europeo adesso siamo proprio entrati con tutti e due i piedi nel partito socialista europeo e questo secondo me è una cosa molto positiva perché è l'approdo naturale che era giusto fare dopo magari lui parlerà un po' di questo perché ripeto il 25 maggio non si vota solo per il sito ma si vota anche per le elezioni europee sono parecchi importanti e anche lì sarà una sfida non da poco io per adesso mi scusate se ho sono stato lungo ma preferisco fermarmi qua e chiunque vuole magari viene qui dopo poi può può dire quello che magari tengo un minimo di chi vuole cominciare a un bel ghiaccio siamo dai un tempo di intervenire sì siamo 45 sì sono adesso 5-6 minuti non siamo fiscati siamo 6-7 minuti ce l'ho fatto tu toglie ce l'ho qui questo prego non fate timidi chi vuole cominciare Luciano trova io innanzitutto partirei con un dato di ottimismo perché sennò come dire ripetiamo un chisse che non che non mi entusiasma quello che diciamo partiti che hanno dato vita al partito democratico erano soliti fare anche quando le situazioni diciamo sono positive c'era sempre questo alone di come dire di auto pregelazione e tante altre cose allora io direi che prendiamo incominciamo da un dato positivo il primo dato positivo mi pare che se non ricordo male abbiamo per la prima volta nella storia del partito democratico il segretario del partito che è anche presidente del consiglio dei ministri questo lo prevede lo prevedeva lo statuto lo prevede lo statuto il passaggio elettorale c'è stato che è stato particolarmente importante perché non è che Matteo Renzi è diventato presidente del consiglio prima segretario e poi quindi io direi che come partito mi piacerebbe sentire un po' di entusiasmo un po' di persone che dicono oh finalmente siamo riusciti a fare quello che nessuno fino ad oggi è riuscito a fare e cioè che il segretario del partito è anche primo ministro poi ci avventuriamo ma non lo faccio perché penso che ormai l'abbiano fatto tutti in questo tormentone del perché c'è stato non è stato possibile un passaggio elettorale io vi do solo un elemento così io la penso io penso che Matteo Renzi abbia fatto un ragionamento all'indomani della sentenza della consulta che ha poi possiamo discutere anche della consulta però è una sentenza molto particolare quella che ha zerato il porcellum ma addirittura ci ha riportato più indietro perché ci ha consegnato un sistema elettorale proporzionale che sarebbe il suicidio per qualunque elezione politica perché voglio dire lì non vince nessuno a partire dal questo è un assunto di fondo io credo che Matteo Renzi abbia fatto questa operazione perché veniva meno un'arma come dire di ricatto nei confronti dei partiti perché potessero esserci costretti ad andare a una modifica della legge elettorale l'unico strumento era quello che il segretario del partito si facesse carico di questa situazione e poi aggiungo anche ci sono una lunga servia di altri elementi che rendono questa scelta particolarmente opportuna perché credo che il giudizio degli italiani sul governo Letta era quello che era e quindi occorreva ma non solo al governo del paese occorreva al Parlamento e guardate come anche i tempi di lavoro del Parlamento occorreva che qualcuno desse avesse il potere e la facoltà di imprimere al Parlamento e al governo una scherzata forte quindi io voglio dire davvero vorrei che il governo Renzi fosse giudicato come in tutti i paesi normali si fa non su delle ipotesi non su quello che ciascuno vuole o vorrebbe ma su quello che il governo Renzi è in grado di realizzare credo che ciascuno di noi in particolare chi l'ha sostenuto è in attesa però anche su questo veramente io faccio un appello a tutti smettiamola con questo costume che non è solo del PD ma è un costume nazionale che le uniche cose che riusciamo a fare è leggere il particolare dei problemi di quel settore di quella situazione di quel particolarissimo contesto proviamo a fare un ragionamento che faceva Kennedy non scusate non sono velteroniano ma invece di preoccuparci di cosa il paese può fare per noi proviamo a mettirarsi sulle maniche e dire cosa possiamo fare noi e la prima cosa che il partito democratico può fare è di smetterla con questi tormentoni delle maggioranze delle minoranze dell'aspettare al senato perché poi su questo non passiamo e lo dico non mi sono vestito di bianco non sono nulla di bianco stasera mi scuso ma però se sul principio posso essere d'accordo però annuso una forte dose di strumentalità in quello che è avvenuto anche oggi in Parlamento lo dico perché sul principio io posso essere d'accordo però su tante modalità sinceramente non mi pare che sia una cosa così straordinaria detto questo tutti noi dobbiamo credo lavorare in senso positivo dare il nostro contributo perché i temi all'ordine del giorno sono estremamente importanti ma non sono i temi di Matteo Renzi sono i temi di ciascuno di noi temi lavoro scuola giovani mondo della rappresentanza Europa cioè sono questioni sulle quali non è che giochiamo come dire nelle piccole e poi fatemelo dire anche questo poi dopo penso di aver abusato del tempo mi piacerebbe anche un'Italia normale nella quale ciascuno fa quello che deve fare i sindacati fanno i sindacati i partiti fanno i partiti il Parlamento fa il Parlamento perché quando un'Italia ancora su cose che nessuno conosce già si proclamano degli soppri io scusate sono veramente indignato quindi un sorriso per tutti coraggio e credo che ci siano tutte le condizioni perché Matteo Renzi faccia bene e mi scusa se ho abusato del tempo e una volta scorsa c'era qualcuno e dice ma non si è intervenuto come se fosse fare l'entrologia mentre invece oggi gli ha stimolato molto di più l'ordine del giorno per anche le cose che abbiamo detto qui e quindi non sono intervenuti anche perché mi sembrava di dover fare l'endissimo un intervento che è sotto l'idea un giudizio positivo nei confronti del nostro sindaco mi sembrava quasi troppo insomma non mi sono anche da me so ritenuto che è quello partendo dalle prime cose che hai detto mi sento di condividere diciamo un po' il percorso per problemi di lineato non avremo molto molto di discutere ma comunque diciamo perché poi sono tante cose solamente la visione a PSE per dire meriterebbe la serata da sola quindi figuriamoci un po' troppa carne però mi condivide questo condivido questo nuovo modalità adesso leopoldina diciamo al di là del tema del titolo è un po' l'idea però mi serve un bel modo un po' diverso per andare alla posizione del programma perché bisogna che c'è un darselo su un programma perché si insomma è quello che non è che spostano tantissimi voti la gente decide come votare in base a tanti altri criteri che vanno proprio leggi sicuramente però non vogliamo fare e mi sembra una buona strada un bel momento una proposta diversa da uno che ha visto gli ultimi due gli ultimi due programmi degli ultimi due sindaci mi sembra che partiamo col piede giusto vedendo alla discussione di stasera un po' più ma io francamente l'ottimismo di Luciano vorrei avercelo la speranza dell'ultima morire molto ottimista non mi sento ma staremo a vedere speriamo di avermi taggare perché con gli stessi ingredienti fare una pietanza diversa non mi sembra semplice speriamo del poco abbiamo cambiato un uomo ma diciamo che perché adesso sembra che essi fare tante cose tutti questi miliardi per fare questo taglio di alcune o questo tra l'altro l'inizio scolastico quant'altro no giusto per capire perché se han trovato se fra Renzi Padua così han trovato qualche cassetto dove c'era dentro dei soldi allora io sono andato più felice però allora quelli che c'erano prima poi erano sempre noi non è che c'era un po' anche degli altri però ormai lo vedevamo noi anche prima allora erano più incapaci proprio del previsto perché non sperano l'enche che c'era qualche cassetto dentro dei soldi non so che si chiami il caso di posto di presidio però lo vogliamo chiarare però come dici staremo a vedere e manteniamo gli eventi sulla legge elettorale io le ho due legge elettorale e queste questioni sono segretari delle domini del governo mi basta e mi avanza sulla legge elettorale gli accordi si fanno con i nemici questo è sempre stato così e ovviamente anche se in questo caso gli ha adesso un avversario politico era anche come dire un personaggio che era interdetto dai pubblici uffici no perché c'è della gente che per delle socchezze effettivamente si prende delle condanne si fa dei giorni di galera questo cioè che cosa può dire una norma che tu sei interdetto dai pubblici uffici per quello che hai fatto giusto sbagliato e l'ha condannato i giudici non l'unica condannato isola però quindi cioè al di là del fatto quello che vuole dire e chiamare se si diceva contro l'Italia parliamo con tutti fuori che con lui non si faceva niente però perché lo so scuro però anche il fatto di andare questo personaggio e va bene però mi sembra che comunque l'accordo complessivo che sia stato fatto a me mi nasce un po' perplesso perché perché se ci fosse una legge dell'essere Montaglia avesse fatto questa legge elettorale per come la legge è delineata è frutto di un corromesso però francamente nessuna qualità di questo e poi lo sparò a dire perché è chiaro che in questo momento evidenziare i difetti di questa proposta di legge elettorale che hanno già fatto i justi costituzionalisti effettivamente sempre a caso di volere fare il conto Civatti aveva fatto una proposta molto semplice sostanzialmente di recuperare praticamente il battarello e poi andare a votare anche perché non dimentichiamoci mai che questo Parlamento va avanti perché c'è una continuità degli organi costituzionali ma la legge elettorale con cui è stato l'elpa è stato dichiarato di costituzionale che poi in questo un Parlamento in un'epoca con una legge elettorale incostituzionale si ponga l'obiettivo di cambiare la costituzione io la tranquillità vorrei avere la tranquillità di Luciano io francamente poi vedremo il risultato che si altera fuori da questo punto di vista e per quanto riguarda la legge elettorale è fare in fretta ma fare finta questa insomma è la sintesi fare in fretta perché è quello che si vuol dare per far vedere un risultato concreto viene a dire un po' un po' di fumo perché per fare dell'agosto ci vuole il soldi io ho ancora un po' di fumo che mi troverò fuori chi ha fretta sostanzialmente un po' abbastanza fretta è Berlusconi deve far passare ancora un annetto scarso e poi dopo lui bisogna che torni a votare perché nel 2018 è vecchio decrepito evidentemente no? perché le forze stanno in questi tempi mentre quell'altro l'altro socio minore Raffano contrariamente lui con più riesce a portare avanti le cose con meglio è perché evidentemente non appena me lo scuola si toglie le mezze in piedi lui conta di spartissimo in realtà è ancora gioco facile dal centro-destro però io credo che fra l'altro con una in due giorni la professione affari costruzionale ha avuto due giorni per discorso di questa legge elettorale poi c'è stato un mese che non se ne parlava più cioè io credo che sotto più di un profilo almeno potrebbe essere migliorata guarda anche a me Luciano una qualche io posso anche capire che ci sia una qualche bene di strumentalità da parte di che in un certo senso vuole diciamo ralentare la parità di questa legge elettorale ma la battaglia sulla parità di genere è santo santa ma quante persone quante donne sento dire ma perché bisogna premiare il merito ma lì ma scherziamo o ci prendiamo in giro in tutti questa è la storia del nostro paese di come è incontrata tutta la nostra società è una società che è maschilista e se non si passa dalle quote non si scarica questo sistema e questo richiamo al merito è semplicemente perché si vuole schivare poveretti bischeroni del movimento 5 stelle a non arrivare a capire non cogliere questa roba arrivare a votare contro una roba di questo genere io meno male che c'è grillo che grillo c'è perché ogni giorno che passa mi sembra che stanno facendo carachiri e in un certo senso viene incontro con i nostri mi portavo il tempo a chiudo su questa questione del sottosegrietario perché voi come vedi c'erano tante cose da dire ma bisogna che stiamo a parlare tutto allora perché voglio mi resi una certa verve come dire quando c'era il caso per esempio dell'ex milione della cancelliera come gli altri fare lettere di evidenza certe criticità allora io non voglio essere giustizialista for cajoni e credo anch'io che se nell'ambito di un mandato si inciatta in un avviso di garanzia può non essere motivo sufficiente per dire a uno per accompagnarlo alla porta però c'è un però un altro conto e c'è la voce ferma in uno che deve costruire un gruppo e deve costruire una squadra a meno che non mi ci vengano a dire che le persone capaci disponibili non hanno finito cioè adesso ci sono quei tre quattroni bisogna prendere quelle di per forza perché in realtà quelli che hanno preso il posto di tanti altri credo bravi e capaci e veritevoli con il curriculum forse anche i migliori che sono rimasti fuori perché sono le tanti quelli lì perché mi devono spiegare e vi terrò mi venivo la battuta ma potrebbe essere scambiata per se si sta me la ritengo per me ma però voglio dire la baraccia due mesi fa con ignominia l'abbiamo lasciata fuori dalla corsa a candidato governatore alla regione Sardegna e dopo due mesi va bene andare a fare il suo segretario cioè io ecco poi io ripeto io credo a questo punto che bisogna avere fiducia il successo di Renzi sarà il successo del Partito Democratico e devo proprio che il fallimento di Renzi sarà il fallimento del PD questa è la connessione e io questo l'ho capito molto bene non so altri credo che facciano un po' più difficoltà a capirlo non lo stimolino non lo credo anche qualche assenza di troppo insomma capiamo anche secondo me in questa in questa semia di questa sera quindi io speriamo però come vedi caro caro io qualche dubbio ce l'avevo io mi ritenuto che fosse un'occasione buona per la manifestazione grazie io sono molto contenta non ero mai venuta da quando c'è stato il cambiamento perché sono molto contenta del cambiamento di vedere stasera tante facce nuove sono arrivata poi ci siamo in pochi perché però leggo quando sono entrata non conoscevo molte delle persone che erano qui che non erano venute abitualmente e a me questa cosa mi fa un gran piacere quindi metto qui la prima pietra è questa non ho paura dei cambiamenti penso che quando arriva l'agente nuova sia una ricchezza sempre e su questa bisogna lavorare senza la democrazia è questa si cambia si volta si viene avanti questo è il primo tassello primo secondo quindi sono contenta che si ragioni che si parli con franchezza che si dicono le cose sono anche molto contenta di quello che ho visto per la preparazione di questa campagna elettorale pur non avendo fatto le primarie abbiamo già un sindaco che li presentiamo quindi poteva essere un motivo di non essere reattivi invece ci sono dei segnali che io ho preso molto la prima cosa è il questionario cioè fare un'analisi di mandato allargandola ai cittadini raccogliendola con questi strumenti a Carlo glielo ho già detto e lo voglio dire davanti a tutti perché sono dei passaggi importantissimi su un modo di amministrare anche quando si ha una maggioranza quasi schiacciante e sta dentro un pensiero di fare politica di farla con i cittadini ma di farla insieme raccogliendo dei pareri in maniera anche innovativa rispetto al passato mi va molto bene Carlo mi ha detto di me la prossima settimana sono libero e verrò oggi spero a me che si chiami fabbrica del programma che sapete mi ha appassionato o che si chiami Leopoldina non me ne frega niente l'importante è che siamo lì a ragionare di che cosa andremo a fare per il prossimo mandato io vorrei introduco così rispetto al partito locale e quindi teniamo i piedi per terra non lasciamoci prendere da delle storie vecchie vecchie qualcuno sta male per il cambiamento perché fa fatica ad accettarlo bisogna avere la pazienza di avere del tempo e di andare avanti a fare delle cose senza creare dei nuovi steccati dei nuovi steccati su delle cose vecchie e su di cambiamenti e costruire poche chiacchiere poche non lasciamoci prendere da questa roba qui in Paese lavoriamo costruiamo chi c'è c'è chi non c'è però adesso arriverà senza creare delle rotture rispetto alla politica legale rispetto alla politica nazionale voi sapete bene che io ho notato perremmo né prima né dopo l'ho sempre detto che l'ho fatto però è il mio segretario e in questo momento è anche chi è il mio presidente e il mio presidente è possibile e quindi ci sono dei paletti si vince si perde si va in minoranza si va in maggioranza ma si sta dentro un partito finché riconosciamo che il partito è lo strumento della nostra applausi finché riconosciamo che il partito è lo strumento costituzionale della nostra rappresentanza e il partito è il partito e anche chi dice di togliere questo nome il partito fa male e sono contenta che se la sia ricanciata 2,32 di onda di prima non ho facciamo un po' di san terrorismo no no perché anche io la uso quello lì allora no no questo è quindi dobbiamo costruire questo partito che è diverso da quello del passato e ne dobbiamo costruire uno nuovo io non sono perché non ci sia più un partito ci deve essere un partito perché è il nostro modo di stare insieme in gruppo e non più uno è pericoloso se dietro a Renzi non ci mettiamo il partito dietro un altro leader non ci mettiamo il partito perché tutti quando abbiamo il potere possiamo perdere il giudizio ci vuole il collettivo intorno sono parole vecchie ma sono nuove e sono presenti e bisogna custodirle va sicuro è un gran pericolo adesso perché la comunicazione è importante ma ci può schiacciare e in questi vent'anni ci ha molto coinvolto allora è importante comunicare ma è importante anche metterci di fianco le cose concrete i fatti e la condivisione della carne e della gente questo è dato io personalmente non ho assolutamente apprezzato il cambio dei nostri due presidenti dei consigli dei nostri due presidenti dei consigli perché era nostro anche quello che prima non ho apprezzato ci sono state motivazioni politiche l'avete letto l'ho scritto che io non so non ho apprezzato di quello che ha fatto là perché quando si è là si sta quelli che sono là sanno che aria tira quindi non lo so non ho apprezzato eticamente perché non si fa così tra di noi ci sono dei parametri di etiche di rispetto che vanno secondo me rispettati anche quando si è là in fondo là in cima o là in alto non lo so ci sono delle modalità che io non riesco sono fatta così credo che io credo fermamente che le persone vengono prima di quello che fanno e questa deve essere una massima da scrivere sui numeri quindi soprattutto quando viene responsabilità di disabilità non possiamo permettere che questo sia confuso però non ho neanche apprezzato alcune nomine dei sottosegretari non per i motivi anche per i motivi di Gianmarco io riguardo dal punto di vista competente quattro anni faccio assessore questo è il quarto governo in cui mi trovo ad andare a trattare non gioco corrette e perenni di quelli che mi hanno tolto che avevano competenze mi ha dato la gente che non sa neanche dov'è in un accambio dove il merito doveva avere un peso importante sono perplessa sono perplessa punto questo però non significa che bisogna fare del massacro e cercare di tagliare le gambe a chi sta ricominciando a lavorare adesso si aiuta a costruire pensando e non dicendo prima che non succeda dando la possibilità che non fa la sua gara e la sua gara la sua sfida le sue responsabilità sono quelli che adesso ci governano e ci rappresentano quindi questo è essere soprattutto quando si hanno delle responsabilità poi si tiene aperto il dialogo dentro il capitolo si sostiene si accompagna e ci si dicono le parole schette quando si è qui come stasera che ci si può dire tutto perché questa è la sede dove ci si può parlare bene rispettandosi io voglio il cambiamento anche se non era cambioverso è lo stesso io lo voglio lo stesso il cambiamento voglio condividerlo i tre punti che sono la legge elettorale l'eventone elettorale il cartaglio del senato e il titolo quinto io ci lavoro con il titolo quinto quindi è chiaro che lo voglio però voglio una legge maggioritaria non ho visto quelli di prima che non la volevano non ho visto quelli di prima che non la volevano ci sono diverse sfaccettature da Bertoni poi ma non siamo mai arrivati a volere altro quindi per favore non facciamo delle letture che non sono sostenute se non le facciamo nell'avanti non facciamone neanche quindi io voglio la legge maggioritaria però non ci dobbiamo spendere per fare delle cose cioè i fini cioè i mezzi i fini devono essere correlati e questo per me è una pietra che non ci possiamo permettere perché ci rimette l'identità del nostro partito e ci rimette la fedeltà di poter dire che sui certi principi non ci siamo pure io stasera sono scandalizzata non come la sera dei 101 ma molto perché quello che è successo io non sono mai stata una femminista sono del paese mi sono scelto ho sempre fatto la casalinga col gremiato ho tirato sui patrofini ho fatto non sono femminista ma noi abbiamo detto una cosa abbiamo detto 50-50 io la prima volta che sono andata alla prima assemblea la più grande innovazione era che in quell'assemblea c'erano 3.000 persone 1.500 d'oro a Milano quando va bene e su questo vi hanno fatto le liste le primarie ce le siamo fatte tutte a casa nostra allora si va a contrattazione per fare la legge elettorale insieme sì ma da 60-40 e non l'alternanza e non dire ai nostri che dovevano votare 60-40 obbligatoriamente lasciare la libertà di coscienza io questa non la digerisco non la accetto e sono in casa mia stasera dico questi non sono i miei principi mi dispiace sono infedele ma io non posso vivere a tutto a casa dico quando mi chiedono la fiducia voto la fiducia sulle cose che il partito dice la fiducia ma non si lascia in realtà di coscienza delle cose del genere io sono effettivamente scandalizzata non mi piace farò di tutto perché questa cosa non passa e non si va davanti in questo mondo poi poi rispetto a tutto quello che sta succedendo ho un atteggiamento molto non giudicante fiducioso non taglio le gambe nessuno mi sono alterata diciamo ti chiedo scusa ma sono molto arrabbiata di quello che è successo due minuti fa non mi sono contenuta mercoledì io non dico di tirare addosso questo governo di mercoledì io sono lì che ci lavoro mercoledì è il giorno che ci spiegheranno le dichiarazioni di quanto sono sostenute dai fatti noi mercoledì aspettiamo perché se a me è taglio qualcuno è fiscale e effettivamente c'è taglio la legge di stabilità se possono fare i piccoli lavori se possono fare io sono contentissima che le faccia letta o che le faccia renti io non sapete cosa pensavo il governo eletto è rentrato tale non la delegatura io non ho la direzione che faccio vuole figurarsi se sostengo questo però nei fatti adesso vedremo siamo qui davanti a una stretta ragazzi che c'è poco da aspettare pochi mesi a metà di aprile per lo sconto c'è la tassa vedrai che da qui a metà di aprile si decide tutto ma abbiamo bisogno di tiraccia d'osso vedremo se alle parole ci sono gli fatti noi in questo momento abbiamo molto bisogno di fatti abbiamo bisogno di stare coesi però abbiamo bisogno anche di dirci in un lato di controllarci perché non si vada a sbattere svendendo perché siamo al governo io non sono quellosa di essere al governo adesso perché questo non è il mio governo questo governo io non sono quello di Stato ma non è con gli altri perché io volevo il governo diverso un governo diverso questo è un governo di temporale copertura per l'obiettivo non me ne frega niente che dura fino a 2018 non me ne frega niente però mi frega che faccia delle operazioni che protegga sto paese se non diamo e non ci tiriamo addosso ma ci diciamo la verità non ci triceremo addosso ma continuiamo a dirci la verità perché per il bene di superficie non possiamo perdere la radice io sono rimasto molto colpito che per la prima volta da quando vengo in questa sala mi sono trovato d'accordo con un evento perché è successo non è grave e mi sono trovato anche in disaccordo con Marco con alcuni punti qui sta cambiando il mondo ma voglio precisare perché allora io partirei dall'anno scorso dopo le infauste elezioni che abbiamo ignobilmente perso Bersani si dimise dopo la figuraccia che controlli Bersani si dimise e la mia impressione è che poi non ci siamo quindi non le sappiamo le cose e tutti intorno gli hanno detto sì dimettiamoci dimettiamoci appena si è dimesso lui tutti gli altri sono rimasti per cui abbiamo fatto il governo Letta che era l'usurpatore per cui non spando tante lacrime sul governo Letta né come persona né come tanto meno come governo perché in fin dei conti Letta ha fatto le scarpe a Bersani diciamo le cose quindi che ora Renzi abbia fatto le scarpe a Letta non è elegante però non è elegante con questo secondo me bisognava andare a votare l'anno scorso secondo me bisognava dire a Napolitano noi il governo non ce la facciamo a farlo andiamo alle elezioni si rivolta secondo me vincevamo si votava a giugno noi vincevamo con la stessa legge elettorale noi vincevamo tanti grillini io ho parlato con tanti grillini hanno votato per Grillo perché tanto il PD aveva già vinto quindi secondo me potevamo vincere poi sul discorso della parità di genere io sono da una parte contento che non siano stati approvati gli emendamenti mi spiego è giustissima la parità di genere noi la facciamo sarà un plus del nostro partito rispetto alle altre forze politiche quindi noi ci presenteremo alle elezioni noi ci presentiamo in ogni contesto che abbiamo un uomo e una donna dovremo modificare probabilmente il nostro statuto per far sì che almeno il 40% dei capolista siano donne una laguna che abbiamo sarà un plus del nostro partito riprendo un attimo Letta Letta era diventato un corpo anche avulso dal partito dopo le primarie perché uno che mi fa il discorso abbiamo preparato il piano di rilancio che piacerà a tutti i partiti anche al BD io mi chiedo te con chi l'hai preparato il piano di rilancio in vero scordo perché se piacerà anche al BD vuol dire che il BD non ne sa niente il governo Letta poi aveva una folta rappresentanza del BD tutti di ministeri che non contavano niente il ministero dell'integrazione razziale il ministero delle pari opportunità poi quelli che hanno i soldi che consiano la difesa la sanità l'istruzione quelli chi erano? erano tutti di Galfano e Monti quindi era un governo del BD per modo di dire questo governo un pochino di più non molto secondo me bisognava votare l'anno scorso sulla per nanzi sulla questione dei sottosegretari io non li conosco quindi non posso entrare in merito al discorso della Barragio la Barragio ha accettato di ritirarsi alle elezioni regionali e è stata ricompensata con questo posto ora se la Barragio venisse riconosciuta colpevole e condannata la dimissione da sottosegretario passa inosservata la dimissione da governatore della regione Sardegna ha un impatto diverso si deve riportare nella regione Sardegna poi io mi dispiace questo giro di stare a casa però capisco che averla fatta sottosegretario è poi una cosa indolore non ha riflessi negativi in caso di una sua eventuale condanna poi speriamo sia innocente e quindi non si pone più il problema grazie saluto pronto mi sono a e ci metto bene allora intanto sono abbastanza entusiasta perché arrivo da un'ottima iniziativa del Roar Labo la spiego in modo diciamo che il partito democratico di Bologna organizza questa esperienza con tutti i ragazzi dal provincio di Bologna e Bologna è un progetto di innovazione politica quindi è basato su vari incontri ci sono vari temi ci sono vari tutor e ogni incontro c'è la possibilità di prima di tutto ascoltare varie personalità del mondo politico qualsiasi tipo anche a livello comunicativo e poi c'è la possibilità di dialogare questa sera è stato il primo incontro ed eravamo una cinquantina circa giusto ed è stato veramente entusiasmante vedere tanto entusiasmo verso quelli da partigioni che purtroppo nell'ultimo periodo non abbiamo visto poi cambiando argomento vorrei parlare un attimo del governo però che hanno i punti positivi cioè nel senso io sono stato solo profondamente renziano però devo criticare l'atteggiamento di Renzi quando ho assunto l'incarico in quel momento mi sono sentito profondamente deluso quando c'è da criticare una cosa bisogna farlo perché non possiamo accoggiare una persona a prescindere secondo me sta qui proprio il punto democratico la cosa su cui il nostro partito è fondato abbiamo sbagliato quali erano le altre opportunità nessuno può sapere probabilmente altre opportunità non c'erano è successo questo io direi di andare avanti così e mi soffermerei sui primi punti che ha toccato Renzi uno in particolare la scuola la prima cosa che ha fatto Renzi da premier è stato andare all'interno della scuola io direi che da lì noi dobbiamo iniziare a ripartire dai giovani dall'istruzione dal futuro che ci aspetta e secondo me questa qua è stata una cosa stessa mi ha più il dito sembra che io la bandiera europea la prima cosa io l'ho detto anche al giorno della Unione volevo dire con un cartello grande così con due cartelli perché la memoria visiva aiuta molto spesso nella memoria parlata è scritto il congresso è finito e l'altro è Renzi il presidente del consiglio punto questo è un dato politico in questo senso nel senso che da lì noi dobbiamo partire cioè il quadro politico che abbiamo vissuto fino a qualche tempo fa è stato radicalmente cambiato per alcuni per alcuni non partire condivide quello che diceva Giorgio in modo troppo traumatico in modo non condivisibile da certi aspetti però questo è il dato politico questo dobbiamo parlare se noi immaginiamo un dato politico che non c'è più facciamo il classico problema che è questo partito che discute di se stesso all'infinito parlando con dei tempi che generalmente sono l'imperfetto e il passato remoto mi accontenterei del presente non pretendo il futuro perché capisco che anche in inglese comincia a essere complicato costruirlo in italiano ancora lo dico perché tutte le volte è una roba siccome è un po' che faccio politica tutte le volte vedo che non vuol dire dissentire o non essere d'accordo su quello che succede o cancellare il dibattito però non vuol dire ragionare nei tempi reali che possiamo vivere altrimenti si chiama uno del giapponese che nel 75 era ancora là chiedere perché dove erano finiti le americane certo più nel 75 c'è il masco ma tra l'altro quando scoperto non c'era più la luna allora quindi anche la più bella delle idee però questo è il dato politico ma cambia radicalmente il fatto che Terenzi si può venire nel Consiglio e non segretario solo del Parigi questo è un passaggio relevantissimo diciamo prima noi attualmente abbiamo il nostro massimo esponente Presidente del Consiglio con la compagno di come diceva Teresa che non ci edusiasma non mi entusmaniamo neanche lui la prima perché in quella prima c'era addirittura Berlusconi dentro per cui non è che veniamo da una fenomenale vittoria del centro-sinistra distrutta da non so chi che poi improvvisamente si è trasformata in una cosa scena arriviamo da una roba che è la fegge di questa il che non vuol dire che siccome avevi male tre denti adesso che i mali due siamo attenti però c'è un paramento quindi veniamo da quel quarto quindi usciamo da questo sistema e facciamo un ragionamento sul presente e sul futuro se possiamo essere in grado di fare e quindi cominciamo a ragionare su questa cosa qua io credo che una valutazione è stata fatta anche perché bisogna guardare un po' come funziona cioè guardare un po' il sistema oggettivamente a detto di tutto noi abbiamo preso in mano l'agente della politica di questo paese dopo 10 anni 15 anni che non abbiamo mai fatta noi la farà male Rezzi sì forse sì lo giudicheranno gli editori ma non è fuori di dubbio che oggi l'agente politica di questo paese l'ha in mano Rezzi comunque il movimento lo sta facendo lui bene non riuscirà a fare quello che riesce a fare lo fatteremo ma è evidente che se fa guardate cosa è successo nei ultimi mesi è davvero cambiato qua la politica del nostro paese perché non a caso un momento di 5 stelle cominciano a saltare come tappi che si ma non perché gli stanco il caso ma per una ragione molto semplice con lo stesso motivo perché il grillo alza tutti i giorni il livello dello scontro elettorale perché chi abbia fatto marketing uno capisce che questo è il miglior sistema per attirare l'attenzione su di sé ma questo è per consiglio di debolezza non di forza politica in questa frase lui capisce molto bene che se questo governo se Matteo Renzi effettivamente riuscisse a fare solo un quarto di quello che dice visto che con tutto rispetto che abbiamo brillato per quello che abbiamo fatto prima lui ha un problema che mi ha fatto molto serio i suoi senatori lo capiscono i suoi deputati lo capiscono lui ovviamente ha un obiettivo di smantla l'ha detto io sono democratico lui ha l'obiettivo di smantla il sistema quelli che sono lì non hanno nessuno voglio tornare a casa ma dentro di questo capiscono che se oggi ci sono le elezioni niente nulla è sicura di avere un risultato positivo e quindi fanno il sistema è in movimento e l'essere in movimento di solito è essere tua la guida della macchina aiuta piuttosto che essere il particeale di far guidare un altro e quindi noi questo dato positivo politico generale dobbiamo alzare il livello anche della nostra dimensione politica possiamo solo limitarci alla dimensione politica diciamo un po' più approfondita l'altra cosa la dico sulla legge elettorale questo è un dibattito io mi ricordo che fece un articolo per il giornalino il paese quando venne fatto lo vocello lo volevo riportare ma non lo trovavo perché dicevo delle robe che a parte che sento di rogi assolutamente frattamente faranno scoperti che l'erore si la mette l'Italia comunque è la roba che si racconti in giro anche poi lui si lamenta che ha fatto in porcello del nostro parco che grida vendendo ma perché avesse fatto scienze politiche cioè è banale come funziona un sistema elettorale che cambia secondo dei sistemi c'è un'asse o un'altra che dice che se se il maggioritario aumenta la presentività se se aumenta la governabilità se se il proporzionale aumenta la presentività il sistema elettorale concide con l'incrocio delle due delle due e l'altezza che l'ho deciso è il sistema sull'avare della mia storia in cui si trova quindi non esiste un sistema elettorale perfetto punto si tratta di decidere qual è l'obiettivo allora lo dico con tutta simpatia per tutti sta roba che adesso ci ritroviamo proporzionata sta roba che troviamo che bisogna fare perfetto è vera ma è figlio di una semplice battaglia politica legittima legittima ma la battaglia politica non mi ricordo un congresso del PD in cui qualcuno aveva detto che ci voleva le preferenze io non lo ricordo improvvisamente riscopriamo le preferenze allora in verità sulla legge elettorale come è successo oggi in Parlamento si gioca una battaglia politica fondamentale perché lo capisce in buon mila terzo elementare che se dovesse non andare in porta la legge elettorale questo governo non dura la frazione di una mezza giornata è che ci voglia a pane bianco per arrivare a questa e quindi su quella c'è già una grande battaglia elettorale l'Italia non è perfetto sì non è perfetto ha pareti di fette ma qual è l'obiettivo l'obiettivo è sapere il giorno dopo le elezioni chi ha che ha vinto le elezioni perché nelle amministrazioni locali in linea di massima tranne i casi particolari si tiene da quando c'era 142 prima non tenevano così perché il giorno dopo le elezioni si sa chi ha vinto le elezioni e basta si sa quale è la maggioranza poi succede che la gente si muove nell'interno maggioranza questo è un tipico atteggiamento italiano ma non solo diciamo in cui non siamo particolarmente specializzati quindi l'Italia ma sicuramente dei limiti vanno messi a posto ci sono dubbi ma se l'obiettivo è quello a quello dobbiamo andare perché andare a votare con il proporzionale o con un'altra legge elettorale e voler dire che noi vogliamo un'altra volta il governo con Berlusconi ma perché bisogna capirci e questo è dato della legge elettorale i numeri stanno lì a meno che uno non dica che prendiamo il 50% e allora parliamo di niente o un altro qua per cui penso di rimanere chiudo sulla questione europea non basta 50 forse non basta neanche perché con la doppia camera il senato non basta perché il senato abbiamo io ho fatto critica in quell'articolo dicendo che la maggioranza del senato non sarebbe mai stata per una ragione molto semplice perché Calderoli che non capisce niente di sistemi istituzionali ma che capisce molto di politica cinica sapeva molto bene che le tre ragioni del nord più importanti la Lega e PDL insieme erano in grado di fare la differenza è talmente vero che voi tutti sapete se non lo sapete noi le elezioni non le abbiamo mai vinte da soli o abbiamo messo insieme la Fondazione e Mastella o quando abbiamo vinto perché la Lega non aveva fatto l'accordo con il PDL queste sono i dati elettorali prendete scaricate e ve li guardate questi sono i dati elettorali e quindi lui molto bene lo sapeva e sapeva che il punto di noi saremmo arrivati sapendo che anche fra l'altro lo stesso Presidente della Repubblica non avrebbe permesso di fare una legge si comprende in maggioranza anche al Senato di questo genere che è tramite vero che è un accordo istituzionale Giacomo e ha sempre la vociata figuriamoci si sarebbe mai promulgata l'ex Presidente chiudo con il PDL allora io la dico perché ci abbiamo messo quanto tempo scrivesse al PDL ma stia schizzando dicendo davvero ma lo dico con tutto il rispetto di quelli che dicevano che non volevano niente ma dove cavolo stanno iscritti tutti i partiti progressisti di questo grande continente di cui noi siamo parte dove stanno iscritti i nostri riferimenti politici dove sono iscritti ma sono iscritti al partito al LIDLAP al gruppo misto dove stanno iscritti stanno iscritti il gare per il senso europeo che noi abbiamo il dovere di modificare che Renzi dice bisogna cambiare perché ci vuole un atteggiamento un partito diverso con un modello di un paese diverso con un modello di un paese diverso ma l'errore e dico anche con tutto rispetto per chi fino ad oggi compreso me non è gestito questo partito non è stato in grado di fare l'unica cosa per dover fare un grande partito di silenzio in questo paese aderire al partito socialista europeo abbiamo avuto queste carrenze con gli amici compagni che vengono a tradizione storica molto vicino alle mie dietro a Lorenzi quindi magari evitiamo di farci fare da qualcuno adesso una predica su questo perché siamo arrivati elezioni europee a giorni se noi andiamo a male elezioni europee sono dolore perché non è che ci misureranno solo se diciamo la regge Emilia e il sasso Marco ci misureranno sul dato elettorale che avrà la PD e non sarà una battaglia elettorale facile o quelli di Fratelli Italia già detto che loro sono per un silenzio dell'euro ricordano di voi guardate al bar che un silenzio dell'euro significherebbe per tutti noi fare la fine dell'argentina la dico perché così la capiamo perché qualcuno di noi ancora crede e pensa che in un paese in un mondo dove circolano i capitali in modo da qualunque parte dove si sposta il mondo in 25 secondi la soluzione è l'uscita dall'euro nell'ordo che succede la semplice così lo sappiamo tutte le importazioni di petrolio che oggi ne facciamo in dollari con il cambio dell'euro ne prende aumenta il 30% di secco così lo facciamo e ci speriamo che a parlare tutto il denaro prendo quello che lo chiamo l'inflazione scatta a burso immediatamente le banche vanno in crisi allora io non dico che l'euro sia meraviglioso dico che l'euro è stato fatto malino e gestito molto male a Tremonte così chiamo dei nomi e dei cognomi che l'ha sbagliato perché Tremonte l'ha gestito male perché noi abbiamo avuto come gli altri paesi un anno in cui abbiamo avuto il doppio cambio ufficiale in tutti i luoghi d'Italia no noi l'abbiamo gestito alla migliata poi dopo ci siamo trovati in scuola l'uscita dall'euro è un suicidio incredibile incredibile per la quinta potenza manzettoriera dell'Europa la terza la terza noi pensiamo di andare a affrontare la globalizzazione del mondo con la linea io qualche era l'ho preso fidatevi fidatevi dove la maggior parte delle multinazionali sono già nel nostro territorio e sono già complesse noi pensiamo ad andare a via ma chi anche chi fa questa campagna elettorale populista su questo si gioca perché io che sono un cittadino come voi lo so bene che il mio portafoglio vale meno di quello di ieri che se io oggi traducessi in dire effettivamente quello che ho dieci anni fa e lo facessi non con quello che andassero a pagare a via buonanotte cosa prendevo quando andiamo a pagare il soldo io farebbero infatti il signore quei tempi però non deve cambiare quindi secondo me questo è il quale chiudo su queste cose locale e volevo ringraziare Carlo volevo ringraziare Alessandro volevo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato in questi giorni perché effettivamente è stato fatto un lavoro molto importante io ho provato a dargli una mano ma malamente cercano di fare il signore di questo Marco però l'idea ha ragione la Teresa noi avremmo forse potuto fare l'altro giorno mi è venuto facciamo gruppi di riguardo dentro come si è fatto ci hanno sposto tutti mi è venuto avendo 50 a fare tutti i giorni facciamo che facciamo 49 però io credo che invece no credo che abbiamo fatto bene abbiamo fatto bene perché l'ho detto dall'inizio secondo me noi dobbiamo pensare a interpretare che accetterà avanti non come stiamo oggi se no avrei passato a aver pensato che il passato era molto all'interfetto noi dobbiamo provare a fare a venire le persone a fargli capire che cosa possono fare a spiegare che cosa non possiamo fare e soprattutto spiegare che la possiamo fare insieme perché da qui in avanti se qualcuno pensa che il suo problema individuale sarà risolto da un'amministrazione pubblica o dalla collettività ha sbagliato il sistema perché non ci sono le risorse disponibili per la soluzione dei problemi individuali da parte della comunità se non è la comunità che si mette in sede per risolvere problemi collettivi problemi a volte anche individuali sapete quanta gente dicevo io che a un'amministrazione si trangeva come un vaporetto c'è ormai ma fa un pelo sullo stomaco e non me ne accordo neanche più e sapete con il risposto cercherò di fare il possibile e sarà un qualcosa ma non sarà quello che lei vuole quello che lei si aspetta che le possiamo dare allora forse se noi davvero ristoriamo questo sistema in cui chiamiamo la gente e raccontiamo le cose e che la chiamiamo Leopoldina fabbrica città io la volevo chiamare la città che vogliamo penso che alla fine corrotta rinziana che vogliamo e penso che sia una giornata molto importante che richiederà un grande un grande lavoro ed è importante anche per il fatto di i tavoli è importante per il fatto di questionare perché io ho chiesto al partito di fare questa indagine loro lo vogliono fare io non voglio esserci non voglio sapere niente perché come ho detto un'altra volta io non sono autocandidato ma vorrei comunicandizzarsi se è possibile so che l'elemento di novità è un'unica se però in questo caso lo pongo come un elemento tradizionale per cui volevo ringraziare e credo che loro abbiano fatto un grande lavoro e il 22 si possa fare un grandissimo lavoro da lì parte un po' il processo di formazione del programma di condivisione con i cittadini su 17 temi molto importanti perché credo che se mettiamo insieme 200 o 150 test che portano delle cose saranno sempre comunque meglio della mia piccolina grazie buonasera grazie di essere grazie di essere qui grazie a Carlo grazie al Sindaco grazie a tutti quelli che sono intervenuti e mi scuso con voi per il ritardo però come diceva prima Giancarlo penso che sia giusto raccontarvi anche che cosa stavamo facendo e quindi qual era il motivo di questo ritardo stavamo eravamo al circolo murri con più di 60 ragazzi età media sotto i 35 anni più donne che uomini più donne che uomini e di che cosa parlavamo? parlavamo di valori perché un partito come il nostro ha bisogno di accelerare ma ha bisogno anche di non essere disorientato e per non essere disorientato deve essere chiara la direzione di marcia e noi abbiamo tutti i nostri punti di riferimento sono scritti nei valori del partito democratico quindi siamo partiti dallo statuto dal manifesto dei valori dal codice etico anche per orientare l'amministrazione locale e penso che questo sia di per sé un valore importante da ricordare proprio perché so il disorientamento che c'è mi capita di andare in giro nei circoli in provincia e delle cose che sono sentite che ho sentito prima le ho ascoltate anche in giro un certo disorientamento di non capire il perché di questa accelerazione e poi diciamoci la verità un cambio che ha fatto male perché è premier è segretario Renzi però era vice segretario anche letta io vorrei prima di dire e rispondere anche a alcune cose che sono state per provare però a tornare un attimo a riappolgere il nastro dei fatti perché noi andiamo in una velocità continua per cui è tutto contemporaneo e quello che è successo ieri già ce lo siamo dimenticati prendiamo una data che significa il 10 febbraio ricordate come è successo il 10 febbraio sono guarda meno di un mese fa un mese fa oggi giusto? che cosa succede il 10 febbraio? succede una cosa che non è mai successa cioè il presidente della repubblica chiama il segretario del partito democratico a minare a parlare ve lo ricordate? noi non c'eravamo in quella sala però provava a pensare a che cosa che cosa si sono detti e che cosa si sono detti l'ho ritrovato in una frase che ha inaugurato Matteo Renzi nella direzione che poi è stata la direzione che ha portato il 14 febbraio vi ricordate la citazione due strade avevo davanti a me e scelsi la mia battuta quali sono le due strade che c'erano davanti? perché io penso che molti di noi ci siamo fatti l'idea che una delle due strade fossero le elezioni signori la strada delle elezioni non c'era perché in questo sistema costituzionale noi ci dobbiamo ricordare due cose uno che il premier non è eletto direttamente dai cittadini non è eletto direttamente dai cittadini per quanto noi abbiamo la truffa di ricordate più sconimo ma non è eletto dai cittadini no? è il presidente della repubblica che vista una maggioranza parlamentare vede la composizione del governo e lo affida chi ha i numeri non è il governo il secondo è che lo scioglimento delle camere non lo fa un segretario ma anche qui può fare il presidente della repubblica e quello che il presidente della repubblica probabilmente avrà detto a Lorenzi guardate che con questa legge elettorale come ricordava Luciano depotenziata dalla sentenza delle corti costituzionali o meglio modificata qualsiasi risultato usciva sarebbero state di nuovo le larghe intese e questo paese in questa situazione di difficoltà non si può permettere di andare a votare per ricostruire le larghe intese non se lo può permettere perché la crisi economica e sociale che voi conoscete è fene morte ok e quindi qual era l'alternativa che aveva Lorenzi era l'alternativa più classica si chiama l'impasto di governo si diceva prendi alcuni uomini della tua segreteria e mettili dentro quel governo così prendiamo ossigeno arriviamo al semestre europeo e dopo il semestre europeo siamo arrivati al 2015 questa è la fra delle strade c'erano però due elementi che secondo me andrebbero valutati meglio e uno riguarda l'Europa uno riguarda l'Europa perché secondo me non tutti ci stiamo rendendo conto di qual è la situazione in questo momento dell'euroscetticismo avete quella bandiera intorno guardatela bene guardiamola veramente bene perché dietro quella bandiera c'è un simbolo c'è un sogno e chi ce la sta ricordando non sono gli europei pensate è un po' paradossale ma chi ci sta ricordando il sogno di quella bandiera sono gli ucraini perché? perché c'è chi lotta perché quella bandiera vuol dire democrazia vuol dire libertà vuol dire diritti fondamentali noi quella bandiera di quel valore l'abbiamo perso cioè non lo difendiamo abbiamo dimenticato come si difende e se tu hai quella situazione abbiamo pagato il governo Monti abbiamo pagato a caro prezzo il governo Monti perché non ricordate chi l'ha sostenuto alla fine dei conti il governo Monti dal punto di vista del prezzo elettorale l'ha sostenuto il Partito Democratico e se abbiamo pagato il governo Monti ma secondo voi chi avrebbe pagato il costo elettorale del governo l'elta il PD il PD allora se questa è la situazione io mi rendo conto anch'io pur avendo io ho votato Renzi l'ho sostenuto e lo sostengo e non era questo il cambio diverso che volevo avere però se non avevo altra possibilità io preferisco rischiare piuttosto che sopravvivere perché in questo paese sono troppi anni che sopravvivere e ha bisogno di rischiare ha bisogno di rischiare in un'unità di futuro come diceva giustamente Teresa prima non bisogna avere paura del cambiamento anzi ci sono nuove energie e nuove entusiasmi che portano alla fiducia però Bacconi diceva la speranza va bene come colazione ma a cena funziona poco e gli italiani sono arci stufi di avere promesse elettorale vogliono fatti quindi bisogna avere con questo atteggiamento con questo governo un atteggiamento che è quello degli storici cioè misuriamolo sui fatti ma misuriamolo con fiducia sui fatti sostenendolo perché anche troppo spesso lo diceva prima anche Stefano troppo spesso vedo un atteggiamento un po' peloso diciamo cioè un po' di quello che dice vai 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 però se cadi però se cadi abbiamo detto cioè in qualche modo siamo lì che ti aspettiamo al basso no non è questo il modo il modo in cui bisogna sostenere già finito posso prendere un parere non è questo l'atteggiamento con cui bisogna sostenere ma bisogna sostenere con l'ottimismo di chi vuole provare a fare le cose quali sono le cose che dobbiamo fare allora parliamo ne metto tre perché sono allora legge elettorale visto che l'avete detto curio fiscale e poi ritorno all'Europa e concludo su quello legge elettorale se io così stato da solo scrivo una legge elettorale avrei voluto una legge maggioritaria con la soglia superamente al 5% con le preferenze se l'avessi scritta da solo l'avrei fatta così ok? però le regole del gioco della democrazia non si scrivono da soli perché sono regole che devono valere per tutti e noi abbiamo visto che quando c'era qualcuno come prima ci ricordava l'esimio Calderoli che ha pensato di fare una legge elettorale per non far vincere ha bloccato un paese per 10 anni ok? in questo paese bisogna ricordare che le regole della democrazia si scrivono insieme e noi dovremmo saperlo perché l'abbiamo scritto nella Costituzione che è la più bella del mondo perché lì ci siamo messi diverse anime a pensare al futuro del paese al futuro di Italia e allora quali sono le regole che sono state trovate? la senza di preferenza una soglia di sbarramento cioè alta cioè nel senso con un premio difficile diciamo difficile e un proporzionale però qual è il valore? lo diceva prima Carlo il valore vero è quello del doppio turno il valore vero è che una volta che io so che le due anime più forti si confrontano è una delle due allora garantiamo un'alternanza in questi anni in Italia si è garantita l'alternanza di governo mi do una notizia sono vent'anni che noi garantiamo un'alternanza ma perché? perché nessuno riesce a governare questo paese ma perché è ingovernabile? perché la macchina amministrativa di questo paese è ingovernabile smettiamola di chiamarlo bicameralismo perfetto al massimo è paritario ma sicuramente è perfetto io avrei fatto una cosa diversa rispetto all'ex questa sì cioè lui ha chiesto un accordo e l'accordo si fa con gli avversari non con gli avversari su riforma del titolo quinto abolizione o meglio modifiche del senato poi vorrei ricordare anche l'abolizione delle province che sono anni che lo diciamo però sta andando quasi in porto e la riforma della legge centrale io non avrei messo tutto questo ma perché neanche io mi fido come molti voi qui non di Rezzi non del governo ma di quei parlamentari perché in quei parlamentari ci sono ancora i 101 in quei parlamentari ci sono ancora tutti quelli che Marco ci ricordava non brillano per specchiatezza morale avrei fatto una cosa diversa cioè legge elettorale e disciplina dei partiti perché qui abbiamo un problema in questo paese che si chiama democrazia forse noi non ce lo dimentichiamo perché siamo un partito democratico no? noi ci possiamo permettere di dire non ci sono le preferenze ma tanto noi facciamo le primarie però signori la disciplina dei partiti è un valore per tutti perché quando un dissidente viene espulso da un movimento c'è un problema democratico quando un parlamentare viene assunto per la fedeltà al capo c'è un problema democratico e per fare una legge di attuazione della disciplina dei partiti articolo 49 della Costituzione bastava una legge ordinaria allora se io non ho le preferenze ma ho l'obbligo che tutti i partiti vi scegliono attraverso le primarie io sono contento se io non ho le preferenze ma ho una disciplina di trasparenza di bilancio di finanziamenti dei partiti io sono contento perché ce ne guadagna la democrazia quindi questa io la metto come diciamo un errore di volontà un voler fare troppo e ci sta perché siamo giovani abbiamo voglia di strafare abbiamo voglia di dimostrare che ce la possiamo fare però attenzione disciplina dei partiti e legge elettorale è una cosa che veramente ci porterebbero nelle democrazie mature nelle democrazie moderne contemporane contemporane cuneo fiscale guardate che mercoledì ci giochiamo un valore importante riduzione del culo fiscale di 10 miliardi di euro vuol dire ossigeno vuol dire ossigeno e il fatto di prevedere che il taglio sarà sul dirbe è una risposta per tante famiglie per tanti lavoratori certo non saranno quegli 80 euro al mese letti che si ritroveranno in busta paga ma è il segno è l'esempio è la dimostrazione che si può fare in questo paese noi dobbiamo dimostrare che si può fare che le cose non solo si promettino non solo si prendono ma si praticano e questa è la dimostrazione che dobbiamo dare e sono convinto che se le imprese invece di un taglio dell'ira avessero una sburocratizzazione vale più dell'ira il costo meglio e lo sapete meglio di me il costo burocratico meglio per le imprese sono 7.000 euro al mese allora proviamo a capire quanto è difficile per un'impresa straniera o per un'impresa europea venire a investire in Italia la regione via romana sta facendo una legge sull'attrattività dei finanziamenti stranieri che sarà fondamentale per questa regione per la competitività di questa regione però rendete conto di quanto è difficile venire a investire in Italia curio fiscale legge elettorale Europa fatemi concludere con Europa allora mancano 80 giorni alle elezioni europee e noi ancora non abbiamo i candidati alle elezioni europee e non abbiamo il programma questo non va bene questo non va bene non è questo il modo in cui possiamo cambiare verso in Europa perché ha ragione Renzi quando dice che se vuoi cambiare verso in Italia devi cambiare verso in Europa però per cambiare verso in Europa bisogna uscire dalla retorica vuota dell'europeismo di questi anni noi continuiamo a depotenziare il valore che c'è in quella bandiera in quel sogno allora quando parliamo di politica estera ci rendiamo conto che in Italia se non c'è una politica estera europea non conta nulla nello straniero internazionale ci rendiamo conto che l'Ucraina oggi è una partita di ostaggio tra la Russia e 28 paesi che non riescono a parlare con una voce sola ci rendiamo conto che se tu fai una politica energetica europea per cui le imprese italiane pagano il 30% di più del costo delle altre imprese e non hai una politica energetica a livello europeo è chiaro che sei depotenziato è chiaro che vali poco nello scattiere internazionale prima si parlava dell'euro le proposte dei 5 Stelle sono uscire dall'euro rintrodurre i tassi doganali signori questo non è il futuro questo è il passato questo è il passato ed è un passato per il quale abbiamo lottato tanto per arrivare il 15 però abbiamo commesso degli errori e quali sono gli errori che abbiamo commesso? pensare che si potesse fare un'unione monetaria senza fare un governo economico europeo senza fare un'unione politica perché non esiste prendete gli Stati Uniti fallisce la California voi sapete che è fallita la California è fallita la California qualche anno fa gli Stati Uniti sono falliti? no prendete Cifro piccola isoletta crisi finanziaria a Cifro ce ne andiamo in mezzo tutti quanti faccio un altro esempio prendete il Giappone debito pubblico del Giappone è altissimo eppure nessuno dubita sulla solidità dello yen della moneta Italia debito pubblico dell'Italia alto tutti dubitano sulla solidità dell'euro ma perché? perché non puoi fare una moneta senza fare un governo europeo dell'economia non puoi fare una politica senza avere la possibilità di capire che il lavoro ormai circola e noi non possiamo fare una competizione a ribasso che il costo del lavoro andiamo nel posto dove costa di meno ma riusciamo a fare delle norme uniche europee sulla tutela dei lavoratori sul contratto salariare unico sulle tasse sull'imposizione fiscale parliamo di politiche europee poi verranno i nomi ma parliamo di contenuti parliamo di idee perché questo ci ha insegnato un europeista che si chiama Altiero Spinelli Altiero Spinelli che con il 14 febbraio facevano i 30 anni dell'approvazione torniamo a contare in Europa perché noi dobbiamo ritrovare anche l'orgoglio di essere italiani l'orgoglio di essere italiani vuol dire essere all'avanguardia non essere le ultime ruote del carro che devono fare i compiti a casa perché ce lo dice ce lo dice di più bravo di noi riproviamo a trovare un po' di orgoglio nazionale perché sono convinto che dall'orgoglio nazionale passa molto della fiducia chiudo con una chiosa perché capisco la regola di Teresa sul tema della parità di genere e capisco anche perché conosco l'assessore che è una questione è una battaglia importante è una battaglia importante quella della parità di genere non la sottovalutiamo sono d'accordo c'è chi ha cercato di strumentalizzarla però non possiamo cadere in quei treni noi abbiamo scritto che la parità di genere fa parte del PD e si negoziano le regole della democrazia si negoziano le soglie di maggioranza ma non si negoziano i valori gli ideali non si negoziano noi dobbiamo imparare a mettere una linea per cui c'è qualcosa per cui si può fare un compromesso e c'è qualcosa sulla quale non si può negoziare la legalità i diritti civili non sono negoziabili non sono negoziabili però sono convinto anche di una cosa che non è che noi faremo la parità di genere con un tratto di norma non possiamo fare introdurre la parità di genere di Italia con un tratto di norma sapete qual è una foto che andrebbe veramente portata nelle scuole è quella del Presidente della Repubblica che si inchinava davanti a Lucia Annibali l'avvocato di Pesaro che è stata sfregiata ecco quella è l'Italia che mi piace cioè è l'Italia che il potere non lo dimostra con l'arroganza ma lo dimostra con la gentilezza noi dovremmo imparare anche chi fa politica anche chi fa politica a non usare un linguaggio arrogante a non cercare la sopraffazione delle nostre idee sull'altro a non cercare di mettere e gridare la nostra voce sempre sull'altro cioè noi siamo abbiamo abdicato la volgarità ricordate c'era un famoso film di Moretti la volgarità ha vinto ecco io quando guardo il talk show cioè sento che c'è una volgarità imperante che ormai ha inquinato il popolo ha inquinato il popolo quando invece vedo le feste dell'unità vedo i circoli vedo questo entusiasmo che si riaccede io vedo il bene della democrazia allora non dimentichiamoci che si fa più cultura di parità di genere con la gentilezza con il rispetto con l'ascolto che non con un tratto di norma perché altrimenti noi avremmo pensato di risolvere il problema della malattia con una medicina invece dobbiamo guarire e per guarire abbiamo bisogno di corpi e della democrazia l'ho fatta lunga vi volevo ringraziare grazie a tutti c'è un momento che a voi mi... non fate timidi se no poi voi bene ma che caccia a voi se no è freddo come diceva Allora, io ripeto, due minuti, ho detto io, tanto grazie perché nonostante voi problemi e acciacchi siamo venuti parecchio lo stesso anche stasera. Quello che abbiamo di fronte le prossime settimane e mesi è parecchio tosto perché appunto doppia campagna elettorale e per le elezioni europee, quello mi preoccupa tanto e per le elezioni, dicendo che quello mi preoccupa tantissimo perché il lavoro è più nostro, è più da fare da noi, però insomma ho abbastanza fiducia nel senso speciale e poi non ce n'è anche di sempre, quello è un problema di me, questo è un problema alla volta, concentriamoci su quelle due cose di me. A breve, ripeto, il 22-23 c'è questo appuntamento qua, chi è disponibile mi raccomando ce lo faccia sapere e io per adesso mi fermerei qui, bisogna avere fiducia, tra due giorni appunto Matteo Renzi presenterà un pacchetto di norme parecchio costoso, dovrà ovviamente indicare anche le coperture e sicuramente bisogna assolutamente portare a casa dei risultati e sulla legge elettorale, ne abbiamo già parlato, e sul pacchetto economico, il curio fiscale, le pensioni, queste cose qua, questo è fondamentale. Io mi fermo qua e basta, insomma per adesso direi che ce n'è abbastanza. Grazie.